Buonasera signori, benvenuti all'Inter Solar, siamo contenti di presentarvi un prodotto molto innovativo, abbiamo preso anche un award quest'anno per un prodotto per il commerciale industriale, pensato per risolvere i problemi di tetti trifase, questo è un inverter compatibile, molto compatto con ottimizzatoni parziali o totali, compatibili con le batterie, se le volete mettere le potete mettere oppure non le mettiamo e le mettiamo in un secondo momento quando costeranno di meno, è un prodotto appunto che ha vinto di nuovo un award che va dai 3 kilowatt ai 20 kilowatt, se mi seguite vi faccio vedere cosa facciamo perché Huawei tra le altre cose, oltre a farsi le foto, facciamo un po' tutto, diciamo che copriamo tutte le gamme dal residenziale al commerciale industriale e alle utility scale, il nostro ultimo modello è un inverter estremamente leggero, pesa solo 80 chili e fa 185 kilowatt di potenza nominale, in realtà si può caricare fino a 220-230 kilowatt, 9 MPPT, molto leggero, molto versatile, IP66, si può quasi immergere, con questo inverter di utility scale noi diamo un servizio unico che è la smart diagnosis della AV curve, dunque la curva AV automatica in modo tale che voi possiate verificare gli sbilanciamenti di stringa in ogni momento schiacciando un tasto, questo è possibile solamente con Huawei grazie al fatto che veniamo dalle telecomunicazioni e riusciamo a gestire il big data mining, dunque siete benvenuti, venite, vi aspettiamo.